Si diploma all'Istituto Kennedy, a Roma, subito dopo la scuola si iscrive alla NUC di Cinecittà, seguendo i corsi per due anni. Dopo essere stato protagonista del cortometraggio Il sogno di Dean, 2000, scritto e diretto da Abiel Mingarelli, nel 2003 debutta sul grande schermo con i film Il posto dell'anima. Regia di Riccardo Milani, e Caterina va in città. Regia di Paolo Virzi, successivamente gira sopra e sotto il ponte. 2006, opera prima di Alberto Bassetti. Scusa ma ti chiamo amore. 2008, scritto e diretto da Federico Moccia. Tratto dall'omonimo romanzo dello stesso Moccia. E Alba Chiara, 2008, reggia di Stefano Salvati, quest'ultimo ispirato dalla famosa canzone del padre. Alba Chiara, sul piccolo schermo ha lavorato nelle miniserie TV Lo zio d'America 2. 2006, e prova c'è ancora Prof 2. 2007, entrambe dirette da Rossella Izzo e trasmesse da Rai 1. Nel 2014 scrive per Valerio Scanu parole di cristallo nell'album Lasciami Entrare.